Oggi, durante il viaggio che abbiamo fatto, abbiamo visto quante tante le grandi sfaccettature che ci sono attorno al connubio energia, information technology ed open source. Ma una cosa che ha colpito e che risulterà anzi evidente con il prossimo relatore, che invita a avvicinarsi, il dottor Ferdinando Bosco, ci illustrerà una cosa molto interessante che è quello che c'è all'interno del mondo della filiera della diffusione dell'energia, che è un mondo che noi non vediamo in quanto soffritori di casa, normalmente, ma dietro ci sono tanti attori, tanti stakeholder, tante realtà diverse. E il progetto che ci presenta oggi, il progetto OneNet, che è un progetto che è stato finanziato dal fondo Horizon, dal fondo europeo, ci porta alla luce, infatti, come un framework open source abbia praticamente messo in contatto tra di loro i vari attori che compongono appunto questa filiera. Ed è una cosa molto interessante. Quindi il dottore Bosco, oltretutto, è senior architect, praticamente, per engineering, si occupa, lavora nel team di ricerca e sviluppo di engineering, si è occupato appunto del progetto OneNet, progetto che anche la Linux Foundation Energy ha tenuto il risalto appunto per queste cose. Quindi mi avvicino, do un attimo, hai già dato tutto, perfetto. Lascio la parola al dottore, grazie, arrivederci. Grazie, tanto grazie a voi per questa opportunità e per permetterci oggi di raccontare quello che facciamo noi come engineering in ambito di ricerca nel settore energetico. e introduco brevemente l'azienda, penso che molti di voi la conoscono, engineering è in Italia la tech company più grande in termini di fatturato, anche probabilmente in termini di persone. È una società che nasce come system integrator ma che negli anni è diventata poi un consulente per tutte le attività tecnologiche, non solo in ambito italiano ma in ambito mondiale. e il nostro obiettivo è quello di avvicinare i clienti e aiutarli nella digital transformation. Negli ultimi anni siamo cresciuti molto, l'anno scorso abbiamo fatto circa quasi 2 miliardi di fatturato e abbiamo raggiunto 15.000 persone, 15.000 dipendenti in tutto il mondo, la maggior parte di questi ovviamente in Italia ma abbiamo sedi anche in Sud America, negli Stati Uniti e nel resto d'Europa con clienti più o meno in tutto il mondo. È importante, oggi sono qui per raccontarvi quello che facciamo in ambito di ricerca. Tra le varie sedi che abbiamo in Italia abbiamo una sede a Palermo e il team di ricerca di Palermo è il più grande di tutto engineering. E l'ambiente di ricerca in cui lavoriamo, io sono nel gruppo di Smart Energy, copre tutte le tecnologie innovative, quindi blockchain, realtà virtuale, intelligenza artificiale, cyber security, cloud eccetera, nei vari domini, quindi health, smart energy, industry, pubblica amministrazione, eccetera. Abbiamo circa 450 ricercatori e 150 progetti attivi al momento, più o meno, con più di 500 progetti conclusi negli anni. Oggi vi racconto due risultati dei progetti di ricerca, un è OneNet citato prima, l'altro è Platone, tutti e due cofinanziati dalla Commissione Europea, per cui i risultati, e questo vorrei sottolinearlo, sono stati rilasciati completamente come open source. Quindi essendo una grande IT company a livello internazionale, crediamo molto, soprattutto nella parte ricerca e innovazione, sull'open source. Intanto vi faccio un'introduzione, ma già avrete sentito oggi, dell'open source in ambito energetico, quindi andrò molto brevemente. Poi vorrei ringraziare anche l'Inox Foundation Energy, che ha preso sotto la sua ala il progetto OneNet, una volta concluso, e poi vi racconterò proprio quali sono i nostri due risultati, il progetto OneNet e Platone, che sono il connector e la flexibility market platform. Introduciamo un attimo il contesto del mercato energetico, l'avete sentito sicuramente oggi, è cambiato tantissimo negli ultimi anni. Siamo passati da pochi grandi operatori, sistema operator, trasmissione, distribuzione, produttori di energia di grandi dimensioni, a molti piccoli player, compresi noi. Ad oggi noi siamo adesso prosumer di questa catena, con i nostri fotovoltaici, con le nostre macchine elettriche, con le nostre batterie, siamo parte di questo sistema. E il sistema si è decentralizzato, non ci sono più soltanto le grandi produzioni di energia, ma ci sono delle piccole produzioni decentralizzate e tanti piccoli consumi decentralizzati. Questo ha portato a una rivoluzione nell'ambito software, da pochi sistemi chiusi e isolati, proprietari solitamente, in sistemi aperti e standardizzati. C'è molto più bisogno di comunicazione fra vari sistemi. Essendo aumentati gli stakeholder, devono scambiare dati e comunicare fra loro per implementare la digitalizzazione del sistema energetico. Quali sono quindi gli elementi, soprattutto nello scambio dati e nella gestione dei dati, che ormai ha assunto una rilevanza enorme, nel contesto energetico da attenzionare? Ovviamente la parte di semantica è modellizzazione dei dati, quindi l'interoperabilità. Come vi dicevo, si è passato da pochi sistemi chiusi e proprietari a molti sistemi aperti, con sistemi che hanno bisogno di scambiare dati tra loro e per questo c'è bisogno di un vocabolario comune, quindi una semantica comune nel contesto dell'energia. Ovviamente il contesto fa la differenza, quindi dobbiamo contestualizzare nel sistema energetico, che può essere cross-sector, quindi non soltanto elettrico, ma anche dell'acqua, del gas, dell'idroelettrico, eccetera. I dati e la gestione dei dati. Come vedete tutti questi player che contribuiscono all'analisi dei dati, a creare nuovi servizi di business, devono mantenere il controllo e la governanza dei dati, la privacy, tutto questo è importante per dare accesso a questi dati, e questi devono essere accessibili in maniera aperta. Interfacce standard, API, eccetera. L'open source come chiave è catalizzatore per migliorare l'efficienza e facilitare la condivisione di conoscenza. Questa è una frase della Linux Foundation Energy, che dice anche che ad oggi il 64% delle compagnie che lavorano nel settore energetico sono già passate all'open source, quantomeno per parte dei loro sistemi. I benefici, ovviamente, riduzione dei costi, costruire un ecosistema più ampio, rimuovere il vendor lock-in, che per loro è molto importante, loro sono stati per anni bloccati con singoli provider di software, e ovviamente assicurare l'interoperabilità con sistemi open. Ovviamente ci sono anche alcune barriere che questi attori vorrebbero evitare, per esempio quello che concerne la performance e la security. introduco brevemente la LFI, che è la Linux Foundation Energy, ovviamente è parte della Linux Foundation che immagino conosciate, ma con un focus prettamente sull'ambito energia. Quindi è un'organizzazione indipendente no profit, che prova a collaborare con diversi player importanti a livello internazionale per portare il mondo nella transizione energetica. Ad oggi è supportata da più di 70 organizzazioni, più di 1000 contributor nei vari repository di software, e più di 30 progetti al momento attivi che potete trovare nel repository della LFI. Ogni anno la LFI organizza in Europa un summit dove vengono presentati tutti i nuovi progetti e data la possibilità a tutta la community di partecipare e diffondere quindi la conoscenza. Ad oggi la Linux Foundation Energy ovviamente va in parallelo con altre iniziative che permettono di diffondere conoscenza e standard open, per esempio il Tripoli per la pubblicazione e le conferenze e gli standard, EPRI per la ricerca, SIGRE per le pubblicazioni e l'Edison Electric Institute per la parte di investimento delle compagnie elettriche. Come vi dicevo, diversi membri, più di 70 membri, fanno parte della Linux Foundation Energy, molti player importanti sia a livello internazionale che europeo, e qui c'è una lista di tutti i progetti open source, di cui OneNet farà parte a breve, nelle prossime settimane verrà inserito nel catalogo, divisi per tipologia di stakeholder essenzialmente, quindi dai gestori alla trasmissione, i cosiddetti TSO, distributori, IDSO, e tutto quello che fa parte invece della rete, quindi behind the meter. OneNet, che vi introduco adesso, come vi dicevo, è un progetto in cui Engineering ha collaborato, io personalmente ero responsabile del design architetturale, è un progetto cofinanziato dalla Commissione Europea nel programma Horizon Europe, Horizon 2020, scusate, e aveva l'obiettivo, si è concluso quest'anno, di creare un sistema peer-to-peer decentralizzato a livello europeo, dove tutti gli stakeholder potessero scambiare dati e collaborare e cooperare nell'ottica di avere un mercato e un framework energetico a livello europeo. Il problema del settore energetico è che ha diversi framework regolatori a livello nazionale, con diverse regole, diversi approcci, diversi stakeholder, questi non sono condivisi a livello europeo. Quello che voleva fare OneNet, che ha voluto fare OneNet, è condividere quantomeno tecnologie e dati a livello europeo, così da poter riutilizzare tutto quello che i vari paesi implementano. E lo ha fatto tramite diverse validazioni in contesti reali, quindi sul campo, in quasi tutta Europa, come potete vedere a destra. La base di partenza di OneNet è la reference architecture, che vediamo qui, che ha voluto dare supporto a questi stakeholder dell'energia con questo framework open source, il OneNet framework. L'idea di OneNet era quella di non andare dai singoli player e proporre di cambiare quello che già esiste, quindi legacy system, le piattaforme esistenti, così come le data source, i device IoT, ma introdurre nei loro sistemi qualcosa che permettesse di integrare questi sistemi da loro in modo da creare questo ecosistema decentralizzato peer-to-peer. Quindi l'idea è creare la cosiddetta OneNet network of platform, dove qualsiasi piattaforma esistente, di qualsiasi operatore, di qualsiasi stakeholder, attraverso il OneNet connector può entrare a far parte di questo ecosistema, quindi diventare un partecipante dell'ecosistema stesso. Il OneNet connector è essenzialmente un dispositivo plug and play, che può essere installato direttamente sulle piattaforme, adesso lo vedremo meglio, e che permette di abilitare lo scambio dati sicuro e trasparente fra i vari stakeholder, mantenendo, questa è la chiave che questi player ci hanno richiesto, i dati nei sistemi dove questi dati sono memorizzati. I stakeholder dell'energia, gli attori dell'energia, sono un po' reticenti nel condividere dati, questo perché la rete elettrica è una rete sensibile, i dati che loro mantengono e utilizzano, sono cruciali e sensibili anch'essi, e quindi essenzialmente vorrebbero mantenere non solo il controllo ma anche lo storage di questi dati. In pratica vorrebbero che questi dati non passassero mai per un ente centralizzato. Quindi l'idea è stata quella di mettere al centro un middleware che permettesse appunto a tutti i player di registrarsi e partecipare, costruendo al di sopra delle applicazioni che utilizzano questi dati eventualmente per creare servizi di machine learning, artificial intelligence o data visualization, qualsiasi tipo di advanced analytics, ma lo scambio dati avviene essenzialmente in modalità peer-to-peer. Questo è un specchietto diciamo più in dettaglio di quella che è l'architettura. Come vedete il middleware centrale serve soltanto per far registrare i partecipanti, per registrare quelle che sono le data sources nel catalogo dei dati e quindi dare la possibilità a chiunque fa parte del sistema di ricercare fonti dati e di utilizzare quei dati una volta che questi dati vengono resi accessibili, ma lo scambio dati avviene direttamente tramite quello che noi chiamiamo Energy Data Space Connector o OneNet Connector, dove lo scambio dati e il controllo sull'accesso e la semantizzazione dei dati avviene direttamente nel connettore. Vediamo adesso un po' nel dettaglio la storia di questo connettore perché per noi è molto importante cosa ci ha portato a svilupparlo e a renderlo open. In realtà il OneNet Connector parte da una base di conoscenza sviluppata da noi in engineering in un altro dei laboratori di ricerca e innovazione quello industry perché l'ambito Data Space su cui la Commissione Europea lavora da molti anni proprio per creare questi ecosistemi di scambi dati sicuri e trasparenti a livello europeo chiedeva di implementare non soltanto delle linee guida ma anche delle tecnologie che abilitassero il Data Space a livello europeo. Quindi nel nostro gruppo di ricerca e innovazione abbiamo dato vita a quello che è il True Connector che utilizza uno delle possibili architetture e dei framework date dalla Commissione Europea attraverso le varie iniziative che esistono a livello europeo in particolare questa qui è la IDSA International Data Space Association e questo connettore è stato da subito rilasciato come open source e quindi arricchito dalla community non solo di engineering ma anche di IDSA e di tutti i partner che lavorano con noi all'interno dei progetti. Negli anni questo True Connector si è evoluto e adesso è uno dei tre connettori certificati da IDSA a livello europeo. Il connettore essenzialmente implementa un execution core container che è il cuore del scambio dati dove questi dati vengono processati verificati e registrati nelle transazioni una volta che questo dato viene verificato e registrato nella transazione viene comunicato all'altro connettore nello scambio dati vero e proprio. Oltre allo scambio dati ci sono due applicazioni che sono la usage control app che è quella che permette di verificare che l'accesso ai dati sia stato richiesto e sicuro e di implementare anche diverse polisi di accesso e di controllo del dato stesso. Il clearing house invece è quello che si occupa di loggare le transazioni per poter verificare in qualsiasi momento chi e quando è stato richiesto un determinato dato. L'evoluzione del true connector e quindi il one net connector che è stato verticalizzato sul dominio dell'energia quindi sono stati creati dei vocabolari semantici per definire data model nel contesto energetico circa 10 categorie e 64 tipi di servizi quindi di data model per applicazioni nel contesto energetico e in più è stato integrato un altro componente open source che è il FIWARE Context Broker che permette di gestire lo scambio dati con uno standard che è l'NGSI LD uno standard definito da ETSI e che utilizza i linked data per le ontologie e aggiungere quindi l'ontologia allo scambio dei dati. Anche la FIWARE Foundation di cui siamo parte è un'iniziativa europea che ambisce a sviluppare e rilasciare prototipi e software in maniera open source nell'ambito IoT. Quindi il connettore è stato evoluto maturato questa è l'architettura finale del OneNet Connector quindi dopo l'integrazione del Context Broker abbiamo anche aggiunto servizi aggiuntivi per esempio per la tool semantici come vi dicevo dei vocabolari la data harmonization che permette di convertire dei formati dati ad esempio dal CIM che è il Common Information Model standard a livello energetico in JSON-LD per esempio e dei controlli sulla data quality quindi che i dati scambiati effettivamente raggiungono un certo tipo di livello di qualità. In più abbiamo implementato interfacce standard per l'integrazione delle piattaforme esistenti quindi per facilitare l'integrazione di quelle che già sono le legacy platform e una interfaccia grafica che comunque permette la configurazione del connettore stesso e facilita la creazione e la discovery dei dati all'interno del catalogo. Le caratteristiche principali quindi del connettore sono che è utilizzabile da qualsiasi Energy Stackholder qualsiasi operatore qualsiasi utente che è inserito nel contesto dell'energia può utilizzare il OneNet Connector i processi sono stati standardizzati e lo scambio dati avviene con interfacce standard lo scambio dati è punto punto quindi non c'è mai uno storage di dati all'esterno dell'ambiente dove il connettore viene installato deployato è facile da utilizzare e deployare l'abbiamo testato circa con 12 paesi solo in OneNet e adesso lo stiamo utilizzando più o meno in tutta Europa la scorsa settimana è stato presentato ad Elite che è una delle conferenze più importanti del settore energia a livello europeo e verrà utilizzato anche a livello di commissione europea proprio per l'ambito del settore energia e nelle scorse settimane è stato ufficialmente sottomesso sotto l'iniziativa dalle New York Foundation Energy questo per noi è un risultato molto importante perché fa capire come questo prodotto open source sia importante per tutta la community energetica a livello internazionale il secondo progetto che brevemente vi racconto è un po' più vecchio rispetto a OneNet è terminato due anni fa però ha una continuità molto importante a livello locale italiano ed è la flexibility market platform che abbiamo implementato nel progetto Platone un altro progetto cofinanziato dalla commissione europea sempre nel programma Horizon 2020 che ambiva a implementare il mercato della flessibilità oggi avete sentito dal professor Gallo come le energy community e il demand response coinvolgono gli utenti nella gestione della rete quindi gli utenti stessi possono aiutare a gestire la rete soprattutto ai distributori ma anche alle reti di trasmissione ma i piccoli utenti soprattutto alle reti di distribuzione quelli di bassa e media tensione il mercato della flessibilità nasce in parallelo al demand response nasce in parallelo all'energy community e serve a richiedere flessibilità energetica ai prosumer dove per flessibilità intendiamo quindi la capacità di questi utenti di produrre o consumare di meno in determinati periodi di tempo quindi l'operatore chiede al consumatore al produttore di aumentare o diminuire la produzione del consumo in base alle necessità della rete ma lo fa non attraverso una richiesta diretta ma attraverso un mercato aperto questo è il mercato della flessibilità per partecipare a questo mercato che adesso vi racconterò nel contesto italiano i prosumer devono far parte di organizzazioni per esempio l'energy community o essere associati contrattualmente a dei flexibility provider quelli che all'europeo chiamiamo FSP e che in Italia sono i balanced service provider BSP la flexibility market platform anch'esso open source aveva il compito di gestire tutto il mercato quindi collezionare le richieste di flessibilità dagli operatori TSO e TSO collezionare le offerte di flessibilità dai prosumer tramite aggregatori quindi quanto un utente è disposto a cedere in termini di flessibilità che può essere in negativo o in positivo in determinati quarti d'ora che sono le unità temporali del mercato della flessibilità e poi di calcolare il clearing di questo mercato quindi associare richieste e offerte in modo che queste vengano soddisfatte e poi vengano attivate la validazione della flessibilità inoltre è stata fatta utilizzando la tecnologia blockchain che permetteva di incentivizzare gli utenti attraverso i token quindi un meccanismo basato sulla tokenization e che veniva fatto per i singoli utenti attraverso una mobile application quello che abbiamo fatto quindi è stato sviluppare una web app che gestiva le due fasi di mercato della flessibilità day ahead che è il mercato del giorno prima in cui gli operatori chiedono in anticipo di un giorno la flessibilità ai flexibility provider e anche quello intraday l'intraday è il mercato del giorno stesso essenzialmente dove gli operatori possono chiedere la flessibilità fino a 4 ore prima il clearing di mercato veniva fatto in un match tra day ahead e intraday e nel giorno stesso poi avvenivano le richieste di attivazione verso i prosumer come vi dicevo la blockchain veniva utilizzata per la fase di settlement quindi per la verifica delle attivazioni dei set point dei vari operatori e inoltre per certificare le richieste e le offerte di mercato insieme ai risultati questo per poter verificare eventuali dispute per il pagamento di queste flessibilità l'evoluzione anche questo tool è stato completamente rilasciato open source e l'ho voluto raccontare oggi perché questo tool open source ci ha permesso di chiudere un contratto col gruppo ACEA con Areti che è il DSO di Roma per una sperimentazione del mercato locale della flessibilità italiana due anni fa Arera che è l'ente regolamentare regolatorio italiano ha attraverso la delibera 352 definito quali sono le regole per implementare un mercato locale della flessibilità in Italia e Areti che è il secondo DSO italiano dopo distribuzione ha voluto sperimentare questo mercato locale della flessibilità con il risultato che veniva fuori dal progetto Platone quindi la market platform quindi un prodotto open source che è stato sviluppato da noi Areti lo ha preso ha chiesto la nostra consulenta quindi la nostra partecipazione in questo progetto e stiamo continuando con loro a sperimentare attualmente il mercato sta girando credo che abbiamo richieste di circa 11 megawatt al giorno al momento su Roma e giornalmente il mercato gira e i BSP quindi i balance service provider mettono offerte sul mercato che viene gestito dalla market platform di Platone che è ormai diventata la market platform di Romflex questo è il nome del progetto della sperimentazione con Areti in più la piattaforma è completamente integrata con la piattaforma del GME che è il gestore del mercato elettrico italiano che è quello che si occupa di gestire e pagare il mercato in Italia e oltre a questo ovviamente sono state riportate ed evolute tutte le implementazioni che erano già state fatte su Platone ovviamente basandosi sul nuovo regolamento che la delibera ha scritto negli anni passati che è la delibera 352 è tutto da parte mia vi ringrazio per questa opportunità grazie veramente grazie veramente intervento illuminante senza ombra di dubbio signori siamo arrivati alla conclusione del nostro viaggio del nostro tragitto ci sono domande? chiediamo se ci sono domande no non ci sono non ci sono invece ce l'ho io una domanda il progetto OneNet adesso in cosa si vuole evolvere o si evolverà nel brevissimo tempo? si è già evoluto nel senso che è appena partito a gennaio 2024 il progetto TwinEU che è un progetto evoluzione di OneNet e che utilizza OneNet Connector e il data space per la gestione dei Digital Twin Digital Twin che come l'intelligenza artificiale sono diciamo il trend topic dell'anno del periodo e che adesso molti player stanno utilizzando per ottimizzare e gestire nel campo energetico per esempio le cabine primarie secondarie o comunque l'ottimizzazione della rete anche qui l'obiettivo è quello di mettere a fattor comune quello che Digital Twin e dei singoli player ottengono come risultati o come modelli per essere condivisi con altri stakeholder a livello europeo quindi sempre una diffusione di dati e di conoscenza e qui il OneNet Connector verrà utilizzato per creare quello che chiamiamo federazione di Digital Twin a livello europeo perfetto ringraziamo il dottore Bosco scusate ringraziamo il dottore Bosco per la sua partecipazione bellissima a livello europeo aspetto Grazie a tutti.